Diego è sparito, è stato rapido Adesso comincia il mio guai perché Se non c'è Lancia sale e non si ferma Neve bianca, moto dritta Iniziamo la ricerca con voi Con voi Con voi Sì, abbiamo fatto pure diverse Non sono madame mistero, mi raccomando Diego vai dietro, scusa, nasconditi Ok Guardate un po' Chi è venuta a trovarci Ciao amici, buona giornata Ciao a tutti Macchiette e macchiettine E benvenuti In questa nuova Olle Vlog Ragazzi, oggi No, oggi è un super vlog Difatti voi state venendo insieme a noi Perché vedrete tutto quanto il backstage Della nostra canzone Quindi se l'ultima canzone non l'hai ancora sentita Corri a sentirla e dici che cosa ne pensi Quindi ragazzi E dice chi canta meglio Ah, quello io già lo so Secondo me è Diego Diego, mi sa che sei tu quello che canti meglio Il baranza Con la collana d'oro è voluto uscire oggi Guarda, il baranza Eh, si vergogna lui Fa il tenebroso Sì, 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 amore Vabbè ragazzi Allora, nel mentre Che noi andiamo nella sala di registrazione Dove andremo a registrare la canzone Che è uscita qualche giorno fa Quindi volevamo farvi vedere nel dettaglio Tutta quanta la nostra canzone Nei minimi particolari Perché ce l'avete chiesto in tantissimi Come si fa a registrare una canzone E quindi noi vi abbiamo accontentato Quindi ragazzi Nel mentre Guardate un po' l'altra sera Quando siamo andati a fare le prove Dentro la casa La noia ci assale Ma una notizia sta per arrivare Dipende, va bene Vai Ti faccio un ritmo Una e due Dentro la casa La noia ci assale Ma una notizia sta per arrivare Controlla la mail E se lo vuoi Puoi partire con noi Puoi partire con noi Su, rimani così Puoi partire con noi Vai Puoi partire con noi Vai Puoi partire con noi Perfetto Lo senti la sentra? Se la terra mi fai Controlla l'idea E se lo vuoi E se lo vuoi Puoi partire con noi Bravissima, via Vai valigie Comoda fredda C'è una vacanza Adesso è perfetta Noi siamo pronti Sì A tempestare Siamo prontissima La scoperta E la baita in montagna E guarda Metti bene le parole Bravissima Uno e due Controlla l'idea Dentro la casa La noia C'è sale Una notizia Sta per arrivare Controlla le mail E se lo vuoi Controlla le mail E se lo vuoi Dentro la casa La noia C'è sale Una notizia Sta per arrivare Controlla le mail E se lo vuoi Puoi partire con noi Puoi partire con noi Vai valigie Comoda fredda C'è una vacanza Adesso è perfetta Noi siamo pronti Sì Alla scoperta Che la baita in montagna Non è bella Corre nelle foto Spero sia lo stesso Un gioco Non è bella Corre Dai Urla 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 in quel modo Ma giusta Non è bella Corre nelle foto Sì Spero sia lo stesso Un gioco Qui fa molto freddo E si vede poco Vai valigie C'è con molta fretta C'è una vacanza Adesso è che aspetta Noi siamo pronti Sfivare la scoperta Della baita in montagna Non è bella Corre nelle foto Spero sia lo stesso Pure un gioco Qui fa molto freddo E si vede poco Oddio Adesso Diego dove è? Diego è sparito Dove è finito? Cercatelo In cielo A noi Diego è sparito È stato rapito Adesso cominciano i guai Perché Se non c'è L'ansia sale Non si ferma Nelle bianca Motoslipa Iniziamo la ricerca Con voi Allora Spero che le prove Mi siano piaciute Nel mentre che Papa Antonio guida I bimbi sono dietro Guardate un po' E Andiamo a registrare la Canzone La nostra terza canzone Dedicata interamente Al nostro libro Quindi se non avessi ancora Preordinato il nostro libro Corri immediatamente su Amazon O nel link in Descrizione Quindi mi raccomando Perché voglio sapere Il tuo parere Vabbè ragazzi E intanto che Chiara Canticchia la nostra canzone Volevo dirti un'altra cosa Mi raccomando Se preordini il nostro libro Avrai un super regalo Che ti arriverà Direttamente a casa Quindi che cosa aspetti Vai a preordinare Il nostro libro Per ricevere La super Sorpresa Vabbè Andiamo Ragazzi Siamo arrivati Nella sala Di registrazione Allora Cuccioli Siete pronti? Siamo carichi? Ok Allora Buon lavoro a tutti e due Buon lavoro anche a Papa Antonio E anche a Mamma Giulia Posso farti sentire una cosa? Dai fammela sentire Che poi iniziamo No no aspetta Mi ha un attimo cioccato E fammelo sentire Rifallo Pazzesca Ma Chiara Dove hai imparato? Pure il piano Lo suona bene Ti rendi conto? Siamo proprio Vabbè ragazzi Avanti Ragazzi Iniziamo le registrazioni L'ego è sparito L'ego è sparito L'ego è finito Cercatelo insieme a noi L'ego è sparito Adesso cominciamo il guai perché Se non c'è L'ansia sale Non si ferma Neve bianca Motoslitta Iniziamo la ricerca con voi Con voi Con voi Iniziamo la ricerca con voi Ragazzi Era solo uno scaldamento di voci Ora si iniziano le registrazioni delle voci L'ego è sparito L'ego è sparito L'ego è finito L'ego è sparito E' stato rapito Adesso cominciamo il guai perché Se non c'è L'ansia sale Non si ferma Neve bianca Motoslitta Iniziamo la ricerca con voi Ragazzi tra poco inizia Chiara a incidere le voci Ovviamente Noi siamo nella stanza Perché dentro è tutto quanto insonorizzato E ovviamente lei Deve stare da sola Con chi inciderà la canzone E ovviamente Edoardo Che gli darà il tempo Per non sbagliare le note Giusto Papa Antonio? Giusto Quando adesso canti sulla base Mi devi dire se la base è troppo alta O troppo bassa L'ego è sparito E' stato rapito Adesso cominciamo il guai perché Se non c'è L'ansia sale Non si ferma Neve bianca Motoslitta Iniziamo la ricerca con voi Con voi Con voi Iniziamo la ricerca con voi Iniziamo la ricerca con voi Questa è molto freddo E si beve poco Oddio Adesso Diego lo vede Non c'è L'ansia sale Non si ferma Neve bianca Motoslitta Iniziamo la ricerca con voi Mosche nei dati Iniziamo a cercare Dietro con Roque Ci dobbiamo subitare Roque segnali Adesso lo so Senta madame Mistero Allora Chiara ha finito Bravissima Ok Ora tocca a me Ragazzi L'ansia sale a me Sale perché scompasso Diego Passa la mamma Giulia Un po' d'ansia Eccola lì Dentro la casa La noia c'è sale Ma una notizia Sta per arrivare Controlla le mail E se lo vuoi Puoi partire con noi Fai le valigie Con molta fretta C'è una vacanza Adesso che aspetta Noi siamo pronti Si va alla scoperta Della baita in montagna Non è bella Come nelle foto Però se è uno scherzo Pure un gioco Note sue Non ci sbagliate Ho fatto un passo Nella cantina Puglia Siamo a noi Vabbiamo Ragazzi Mamma Giulia Terminato Ora tocca a Diego Allora Diego è sparito Dove è finito Giorgatemi insieme a noi Diego è sparito E stavolo rapito Adesso comincia nel guai Perché Se non c'è L'ansia sale Non si ferma Neve bianca Motoslitta Iniziamo la ricerca Con voi Con voi Con voi Iniziamo la ricerca Con voi Facciamo due Tre quattro volte Perché mi servono due Ok Perfetto Dai io così dopo un po' La sei non mori Esatto Vai Diego è sparito Dove è finito Giorgatemi insieme a noi Allora Rifacciamo La prima va bene Lo vuoi rifare ancora una volta Dai glielo proviamo a chiedere Può rifarlo Sì Ancora meglio Dai Dai Allora guarda il microfono sempre Così perfetto Perfetto Fai senza foglio Tanto la sei a memoria Vai Pronto Diego è sparito Dove è finito Giorgatemi insieme a noi Diego è sparito È stato rapito Dentro la casa la noia Ci assale Ma una notizia sta per arrivare Controlla le mail E se lo vuoi Puoi partire con noi Fai le valigie Con molta fretta C'è una vacanza Adesso che aspetta Noi siamo pronti Si va la scoperta Ma una notizia sta per arrivare Controlla le mail E se lo vuoi Puoi partire con noi E si vede poco Oddio Adesso Diego Dov'è? Diego è sparito Dove è finito? Perfetto C'è il torneo Perché è girato È super buono E ci aiuterà Diego è sparito Dove è finito? Cercatelo insieme a noi Diego è sparito È stato rapito Adesso cominciano i guai Perché Se non c'è L'ansia sale Non si ferma Neve è bianca Motoslitta Iniziamo la ricerca Iniziamo la ricerca Grazie a Macchietta Tutto questo finirà Insieme a Chiara Diego Ritroverà Ragazzi Abbiamo appena finito Di registrare le voci Ringraziamo tantissimo Vittorio Vittorio E ovviamente Edo L'autore della nostra canzone Quindi niente A breve vi faremo vedere anche qualche spoiler del videoclip Ma non vi preoccupate A dopo Ragazzi come notate Mamma Giulia è super carica Noi stiamo andando alla macchina E tra qualche giorno registreremo il videoclip Quindi ragazzi Buona visione E Guardate un po' il videoclip Come lo stiamo facendo Allora Macchiette e macchiettine Finalmente È arrivato Il giorno Per andare a registrare La nostra Canzone Ma non La canzone In studio di registrazione Ma oggi faremo il videoclip Quindi ragazzi Mi raccomando Se non l'avessi ancora fatta Iscriviti al nostro nuovo canale E nulla Siete carichi? Anche attivate la campanella Anche attivate la campanella Bravissima cuccola Vabbè ragazzi Andiamo a fare il videoclip Ciao Ragazzi Siamo arrivati nel camerino E papantonio Allora Metti tutto qua E apri già Ci sta Perché dovete sapere Che le valigie Sono piene di vestiti Perché ci cambieremo Sì E di là C'è il bagno Alla fine Chiara È sempre l'ultima Ma è possibile Che tu sei sempre l'ultima? Dai Su Metti le scarpe Sì Ti stringo anche lì Finalmente La mia Cocciolina È pronta Andiamo E ovviamente Ragazzi Maglioncini Perché registreremo Tutto quanto Come se fossimo Nella neve Sì Sì L'isiettivo Questa regola La diceva tutti Io farei che Se non guardate mai in camera Sassale Non si ferma Neve bianca Motoslitta Iniziamo la ricerca Con voi Con voi Sì Sì Lì c'è da me Sì E fai quello che c'è dentro Ok Vai dietro Tu entri Vai Esatto Tu c'hai paura Guardami Guardami Ti fai Perché tu hai paura Di essere fuori Che non vuoi sbagliare Tipo Hai capito Ovviamente Tu saldi Vuoi salutare Non avere paura Che sbagliare Perché hai paura Di essere fuori Tu devi fare Come fossimo a casa Da lì ciotto Proprio Ma comunque È abbastanza stagio Fuori Bellissimo Allora Macchiette macchiettine Io ve lo posso annunciare Ora Finalmente Ebbene sì ragazzi È uscito Il nostro Nuovo libro Il mistero Di madame Mistero Ragazzi Io penso che Questa volta Ci siamo superati E che dire Io l'unica cosa Che vi posso dire È di andarla A preordinare Nel link In descrizione Che troverete Qua sotto Al video Su Amazon E ovviamente Non vi anticipo Ancora nulla Ma Ci sarà Una super sorpresa Se lo preordinerai Adesso Quindi ti conviene A preordinarlo E che dire ragazzi Io penso che Questa volta Ci siamo Superati Quindi Andate tutti A preordinarlo Su Amazon Bravissimo Così Poi a questo punto E voi Che è quel punto E io sto qua No E io sto qua Tipo da sotto A 05 Come lo fa Chiara Mi volta a me Capibara Ragazzi Cambio Maglioni E Si torna Nello chalet Oh Papà Antonio È già stanco Ha fatto mezz'ora Di riprese E già sei seduto Sul divano Cioè ti rendi conto Che Stai diventando Fiacco vecchio Vecchio Però fiacco sì Fiacco forse E Chiara Si è cambiata Il maglione Diego Si è cambiato Anche lui Il maglione Papà Antonio Puro E mamma Giulia Anche Vabbè ragazzi Due minuti Dobbiamo riniziare Allora Come stanno Procedendo Le riprese Per il video Questo A mamma Lo stai chiedendo A te A che ti devo chiedere Le macchiette macchiettine Come stanno Procedendo Le riprese Molto bene Molto bene Ok Sta procedendo bene Siamo ancora all'inizio E devo farti I miei complimenti Cioè sei proprio Un capibara Di quelli Sì Grazie Complimenti Diego Si rinizia Sei pronto? Sì Ti piace Grazie Cioè facciamo tutti La stessa cosa Sì Ma non è che cantare e ballare insieme Non è che la confusione Non è che la confusione In cantare solo È semplicissima Però Perché papà è solo Il mio posto Si basta No Ho abbaiato mamma Viene sparito E poi finito Cercatolo insieme a noi Viene sparito E stanno ravito Adesso comincia E non è che il guai perché Se non c'è L'ansia sale Non si ferma Nella bianca Molto smitta Iniziamo la ricerca con voi Con voi Con voi Con voi Ragazzi pausa pranzo e poi si ritorna a registrare Io vi dico solo questo Abbiamo chiesto a Madame Mistero di venire Ci ha detto di no E quindi tocca a mamma Giulia fare Madame Mistero Quindi ragazzi non sono Madame Mistero mi raccomando Sia chiaro Allora quando stai dietro riesci a stare un po' in qua Adesso metti tutto dietro Mamma come se ti volessi nascondere Ok Giulia vai in posizione E così dico Bianco vai dietro Nasconditi Ok Vai Ok Chiara si sta mettendo la giacca Il cappello e i guanti Perché a breve andrà in scena Come se fosse una vera e propria Baita in montagna Vero Chiara? E dobbiamo ammettere ragazzi che è abbastanza difficoltoso Perché non fa così freddo in questi giorni Quindi ci aiutiamo con l'aria condizionata Ragazzi ora ve lo possiamo svelare Guardate un po' chi è venuta a trovarci E che ovviamente la vedrete super presto di nuovo nei nostri video E anche l'avete vista nel videoclip Guardate Ciao amici Sono tornata E presto vi vedrete di nuovo nel video di Mamma Nulla e Filla Chiara Ciao C'era qualcosa di troppo seria nel suo cuscino Non era morbido Soffice E coccoloso come al soldo Mi rubò una mano Per sistemarlo benvenuto E tornò a dormire Amici Backstage Canzone Finita Vabbè ragazzi Vi abbiamo voluto portare insieme a noi Per farvi vedere tutto quanto il dietro le quinte Spero che vi sia piaciuto il nostro super bloggone E nulla Ti saluto E ci vediamo col prossimo vlog Mi raccomando Iscriviti al nostro nuovo canale MGFC Vlog Diego è sparito Dove è finito Cercatemi insieme a noi Diego è sparito E' stato rapito Adesso comincia nel guai Perché Se non c'è L'ansia sale Non si ferma Neve e bianca Moto slitta Iniziamo la ricerca con voi Con voi